Ciao Jacopo. Ciao Giulia. Bentornati o benvenuti in questo nuovo episodio di Zitto e Guarda. Un podcast dove ci obblighiamo a guardare film che l'altro non ha visto. Non si può dire di no, non si può aspettare, bisogna solo vedere e stare zitti. Solo che stavolta tocca a te. Mannaggia. Eh sì. Non so mai cosa aspettarmi, Jacopo. Ma è giusto così, perché l'ultima volta mi hai tirato un tiro mancino. Un colpo basso. Allora, io sono aperto a tutto, ma questa volta è stato difficile, perché PPP, che non è per Paolo Pasolini, ma è programma protezione principesse, mi ha causato un attimo di difficoltà. Mi dispiace. Non era il mudo. No, no, ripeto, è sempre giusto. Però sai che, allora, questa cosa un po' mi preoccupa, perché se tu non sei sopravvissuto al PPP, aiuto. Cioè, abbiamo tante altre cose da vedere che saranno peggio. Immagino, però non era, questo non era un brutto bello, era un brutto e basta. Cioè, mi sono più divertito a sentire i gossip su Demi Lovato e Serena Gomez, che tra l'altro avevo indovinato senza sapere, quindi insomma. Hai visto, hai visto. C'era il talento, però tu dici, io potrei adesso vendicarmi in qualche modo, ma visto che comunque l'ho guardato il programma protezione principesse, ho deciso di porgere l'altra guancia, come una vera principessa. Grazie. E quindi ti farò vedere un film, un film che io vidi per la prima volta in tv al mare. Wow, ma quale mai? Dove? Dacci più contesto. Vabbè, allora, lei è sarda, quindi voi non vedete che io faccio le virgolette quando dico mare, ma ero a Riccione, perché mio padre lavorava a Riccione e l'estate la passavamo lì. Dai, però bello comunque. No, no, infatti era una bella casina. C'era questa tv in casa e un giorno parte questo film che all'epoca avrò avuto, boh, nove, dieci anni, forse un po' di più. Vabbè, comunque intorno a dettagli. Io guardo questo film terrorizzato. Oddio, oddio. Non riuscivo a smettere di guardarlo, però, perché mia sorella diceva che era bellissimo e che era innamorata dell'attore protagonista. E quindi non riuscivo a smettere. È un film che mi ha insegnato che alcune cose che tu da piccolo pensi siano film horror in realtà non lo sono. Beh, sì. Capisco. Cioè, quel momento in cui fai il passo, no? Io da piccolo ho pensato per anni che Lo Squalo fosse un film horror. E un po' lo è, però non è un horror come lo intendi, no? Certo. In generale. Spero che tu non l'abbia visto in realtà, perché è un film di culto in realtà. Quindi... Penso, dai. Speriamo. Comunque, ti devo dare questi indizi. Noi abbiamo un gioco dove io lancio degli indizi e Giulie potrebbe capire di che film sto parlando, oppure li coglierà durante il film. Sono pronta. Primo indizio. God bless America. Così, vabbè. Così. No, capirai, capirai. Ok. Secondo indizio, questo ti piacerà, sono capelli alla Disney Channel. Oddio mio. Non te lo aspetti da questo film, perché è del 1990, però già... Ah, ok. C'era un capello alla Disney Channel. Sono stati i precursori. Esatto. Non credo, non era il target, però... Ok, ok. Questo indizio prossimo è per prenderti per il culo, ed è tu in estate. Io in estate? Sì. Ah, che non voglio prendere il sole. Può essere. Vedremo. E poi l'ultimo è... Questo è per cinefili. Eh, non è vero. È perché è uscito Dune qualche giorno fa. Lisanne Algaib. Ok. What the fuck? Vabbè, ti dico che non ho capito... Cioè, per me non ha senso tutto quello che hai detto. Ma lo avrà, lo avrà. Lo avrà, ok. Ovviamente non ho idea di che film sia. Eh, quindi ti devo rivelare il titolo. È certo. Ho tanta paura che tu l'abbia visto. Il film è Tremors. Mai sentito della mia vita. Che bello, che bello. Queste sono le parole che preferisco quando registriamo questo podcast. Ovvero sempre, Jacopo, non ho mai visto un caso. Ma un giorno succederà che qualcuno di noi abbia visto il film, però... Sai che ce n'è uno che secondo me può... Cioè, che io voglio farti vedere, ma tu non ti aspetti, perché sarebbe un film che tu mi proponi. E invece... Ah, wow. Però quando verrà il momento, capiremo. Tu non hai mai visto Tremors, quindi questo è... sarà una giornata bellissima per te. Perché Tremors è... cheap. Non so come dire. È proprio... Ok. Low budget. Tantissimo low budget, però funziona tutto. Cioè, è magico. Non c'è una scena che non conserva. Non c'è un momento che non faccia ridere. In questo film tutti i personaggi sono praticamente Luke Danes di Gilmore Girls. Che bello. Bellissimo. Fantastico. Tutti dal primo all'ultimo. Ma così... È un film che dalla prima inquadratura, letteralmente, tu intanto capisci il tono del film. Però capisci anche dove sono. Proprio location per poi dire... Ah, sono lì. Il mood, il tono, fantastico. Oddio. E noterai che nonostante, pur essendo cheap, la fotografia è bella davvero stavolta. Ti lascio con questa... Quando è che non lo è la fotografia? No, ma stavolta di cinema. Come hanno fatto? Chi se ne frega, è bellissima. Cioè... È bellissima. Non ne hai mai sentito parlare. No, sono troppo felice. Ti giuro... Niente, non ho idea. Allora, quando vedrai il film, fatelo selezionare da qualcun altro, così non vedi neanche il poster su Netflix. Ok. Perché... Cioè, voglio che tu arrivi proprio... Così, proprio senza nessun tipo di input. Esatto. Sono molto spaventata, Jacopo. No, no. Ti divertirai, ti divertirai. Comunque sai che quando hai detto Tremors, Ali, il mio primo pensiero è stato Tremotino, quella cosa di Shrek. Che non c'entra ovviamente niente. No, effettivamente non potresti essere più lontana. Quindi renditi conto di quanto io non conosca questo film. Che bello. Ma perché... Cioè, neanche io quando lo vedi la prima volta lo conoscevo. Però mia sorella mi disse, cioè, ma... Gaia, che film è questo? E lei, è Tremors? Non mi hai mai sentito. E ho nove anni. E ho detto, no. Come se fosse poi un film famoso, ma che cavolo è che conosce Tremor. Che andò male al cinema, andò male dappertutto, però tutti conoscevano Tremor. Però su Italia 1 andava alla grande. Non mi rifò, forse era Italia 1, forse... Ma in estate la programmazione era pazza. Era un po' a caso, ok. Vabbè, comunque, vai. Devo andare? Devi andare, è il tuo momento. Oddio. Ah! Dai! Va bene, ok, allora vado. A tra poco. Ciao ciao. A dopo. Ok, allora, la prima inquadratura con le mucchette. Posso dire, è subito a una montana dei movie. Allora, questo film mi piace già perché sono tutti sudatissimi. Però, in fondo, 1990, potevo aspettarmelo. E comunque, posso dire, sta cosa che la gente si mette la protezione solare sul naso. Aspetta! Sono io in estate? Ho avuto adesso il collegamento. Può essere che sono io in estate, che ho sempre la protezione solare. Però non me la metto così male, tipo bianca sul naso. Oppure sì. Ma ci sono i vermi delle sabbie? Perché, cioè, non sono proprio loro, ma... What? Ottimo, primo morto del film. Ah, minuto, aspetta, un secondo. 15 e 20. Dai, forse è un record. Oh, ma in sta cittadina, cioè, proprio cadono come mosche. Ma poi in modi orribili. Ho appena visto la calotta cranica spaccata di una persona. Dio, hanno trovato il vermone. Vermone. Ed è palesemente una roba di gomma piuma. Bellissimo. Allora, il mega vermone gigante, che al suo interno ha i vermetti. Poesia, poesia. Il momento con la musichetta spensierata. Di loro che usano dei bastoni per saltare da una pietra all'altra e quindi non essere mangiati dai vermoni. A suo modo poetico. Carino. Un bel momento. Finito. Comunque mi fa ridere che il tizio... Vabbè, Kevin Bacon facesse tutto il figone così. Poi... Un sottone di prima categoria. Bentornati. Salve. Allora? Aiuto. Aiuto. Questo film è tremendo, Iacobo. No. È brutto. È bellissimo. È brutto. Non vale. Ed è anche noioso, posso dirtelo. No, questo non me lo puoi. Noioso mai. Però sentiamo. Vabbè, spiega ai nostri amici che cosa hai visto. Che cosa... Non neanche io so bene cosa ho visto. Per farla breve c'è Kevin Bacon che sta nel Nevada ed è la trama di Dune, però nel Nevada. Oddio, la trama di Dune... No, cioè non proprio. Però, allora, fondamentalmente siamo in questo deserto, si scopre che ci sono i vermi delle sabbie, cioè letteralmente quello, non è un'altra cosa, è proprio quello. Un po' più piccoli, dai. Più piccolini, è vero. Sì. E nulla, e loro li devono uccidere. Cioè, devono salvarsi da questi vermoni. This is the drama. Sì, esatto. Non c'è letteralmente nient'altro. Che dire? Allora, mi sono segnata delle cose. Il mio primo commento è stato, se Dune fosse ambientato nel deserto del Nevada, sarebbe questo film. Vero. Poi, una cosa che ho apprezzato molto e che spero prima o poi di vedere anche in Dune, è il POV, il POV del vermone. Ah, sì, è vero. Ogni tanto c'è questo cambio. Tu vedi il POV. Esatto. La soggettiva del verme. Che cosa vede? Niente. POV, hai sentito un rumore e vuoi mangiarlo. No. Lui non vede niente, vede solo sabbia e sassi. Esatto. E c'è, sono questi momenti in cui tu vedi solo sabbia e sassi. What the fuck. Eh, vabbè. Poi, vabbè, in low budget ci sono arrivata presto perché ovviamente il vero buone è fatto di plastica e gomma piuma e questa cosa è molto evidente. Però è così... È così carino. E poi una cosa che non ho capito, allora parliamo un attimo di questo, di questo verme, no? Tipo la bocca sembra uno scheletro e poi c'ha il corpo. Sì. È strano, non lo so. È tipo il becco. Esatto, esatto. È come se avesse il becco. Questa cosa mi ha un po' destabilizzato all'inizio perché non stavo capendo. Però vabbè, è questo concept un po' particolare. Esatto, e poi dillo la particolarità di questo verme che in bocca... In bocca c'ha gli altri vermi. Esatto, c'ha tre vermi più piccoli che usa per mangiare. È una roba orribile. E poi quando si spappolano esce fuori questa roba tipo arancione che sembra tipo gelatina di Fanta, è presente? Sì, è vero, un po' di jelly beans alla Fanta, tutta bavosa. Esatto, tremendo. Mi ha ricordato anche quei giochini che non so se ti ricordi. C'erano nelle patatine della Wacos, si chiamavano così le Wacos. Mi ricordo le Wacos, sì. Ecco, nelle Wacos si trovavano sticosi di gelatina. Cioè non erano di gelatina, erano tipo dei robi che si appiccicavano al muro. Ah, quelli che spappolavi e poi tornavano insieme. Sì, sì, è vero. E c'erano verde o arancione. E quindi, vedi. In realtà quelli lì, vedi, li hanno fatti aprendo in due i vermoni delle sabie del Nevada. Esatto. Tra l'altro, adesso mi è venuta in mente sta cosa che magari taglierò, però te la voglio raccontare. Quando erano elementari nella mia aula, nella classe dove stavamo, c'era proprio uno di quei cosi arancioni che era stato evidentemente spiaccicato sul soffitto ed era... Ma è rimasto lì, ma è rimasto lì per sempre. Cioè io sono stata in quella classe tutti gli anni dell'elementare e... Non è mai tornato giù. No, era sempre l'abbiccicato. A me è successa la stessa cosa perché il compagno di banco dietro di me mangiava il prosciutto ma toglieva il grasso. E poi lo lanciava sul soffitto, non so perché. Questo però fa schifo, però. Sì, però è rimasto lì anche lui per cinque anni, alle superiori. Una roba... Ma non puzzava, poi il prosciutto puzza di morte. Devo dire di no. Incredibile, i soffitti. Altro che frigorifero. Soffitti delle scuole, esatto. Wow. Poi non l'avrei più mangiato, però... No, beh, cioè... Incredibile. Wow, vabbè, comunque. E niente, quindi il vermone è fatto delle sorpresine, delle wakos. Ok, questa è una nuova teoria che proveremo ad approfondire un giorno. E niente, però non ti è piaciuto, cioè ti sei annoiata. Allora, io non so, non sono il target di questo film. No, dici? No, assolutamente no. Eppure Dune ti è piaciuto? Ma perché Dune è Star Wars fatto però dalla DC, capito? Ok. Quindi mi piace. No, allora, è un po' troppo americano per i miei gusti. Sì, e da qua appunto arriviamo poi ai vari indizi, cioè God Bless America, niente di più americano di questo film, è letteralmente dei cowboy, dei cowboy, nel deserto, che devono fare a botte con questo verme, che se ne inventano di tutte, che tra di loro fanno cagate, c'è veramente, God Bless America, veramente. C'era una scena in particolare che volevo che tu cogliessi. Oddio, no, allora forse no. Che era molto americana. E quale tra le mille? Erano tutte così? No, ma ce n'è una proprio. Sono questi due che sono in un seminterrato da soli e il vermoni gli spacca il muro e loro cominciano a sparargli. Ah, ok. Col fucile, e poi finiscono i proiettili e c'è questa scena incredibile in cui, per la prima volta in tutta la scena, la camera fa vedere il controcampo e c'è un muro pieno di tutti i tipi di armi, possibili, immaginabili, e se la risolvono così, ovviamente. Ok, ok. Cosa c'è di più americano di un muro pieno di armi? Cioè, io pensavo ti riferissi di più al mood generale, tipo loro che con questi stivali da cowboy e il cappello. Ci sono delle scene, c'è una scena in particolare dove uno viene fatto fuori e ritrovano il suo cappello da cowboy in mezzo al deserto. Ah, sì, è vero. È così americano. È vero, è vero. No, però era quella scena in particolare. Però appunto, cioè il film dillo che inizia su un burrone che pisce a giurare. Naturalmente, lui su un burrone con le mucche che fanno mu, e infatti subito ho pensato ad Anna Montana. Loro, vestiti da cowboy, sono suddatissimi perché sono gli anni 90, questi vestiti sporchi, che si percepisce che è il deserto perché c'è la polvere. Sì, che sono in questa cittadina di sette abitanti. Sette, sì. Che si chiama Perfection. Questa cosa mi ha sempre fatto molto ridere. Quando è fatto? È che loro per tutto il film provano ad andare via perché gli fa schifo la vita lì, ma non solo arrivano i vermoni, ma pure intrappolati da macerie. Però a proposito di cowboy hai ragione, perché a un certo punto dicono, è come facciamo ad arrivare fin lì a cavallo? E c'è questa pausa in cui tutti si guardano e loro avevano due cavalli giusti giusti. Let's go! Spoiler, i cavalli non fanno una bella fila. Eh vabbè, questo non lo diciamo. Poi, allora, quindi ho iniziato con gli indizi, quindi continuo. Vai, vai, giusto. Poi, capelli alla Disney Channel, io credo di aver interpretato con il ragazzetto che ha il capello alla Disney Channel, che tra l'altro, il primissimo momento in cui si vede, è pure vestito con la divisa da basket, c'ha un pallone in mano. Io ho detto, Troy Bolton, is that you? Me l'hanno proprio servita questa. Erano due in realtà, volevo che fosse lui e anche Kevin Bacon, perché ha questi capelli improponibili. L'avevo pensato, però non ha il ciuffone lui. È vero. Perché ha il capello. Esatto. Ha sempre un capello alla cowboy in questo film, è incredibile. Lui, sai, ha più il capello alla Mondo di Patti, perché nel Mondo di Patti vanno i capelli alla Disney Channel, ma più lunghi. Non chiedermi perché. Ah, ti trovi impreparato sul Mondo di Patti. Eh, Jacopo, guarda, tu che non ne sai di acconciature di quell'epoca, è proprio grave. Ma non ne ho bisogno, io ho i capelli perfetti. È giusto, è giusto. Eh, comunque, no, mi ha ricordato più il Mondo di Patti, perché avevano anche loro sti capelloni lunghi, un po' come Kevin Bacon qua, però più lunghi di Disney Channel. Cioè, proprio che gli arrivavano un po' qua. Cioè, ovviamente non sapete cosa io sto dicendo dicendo qua, intendo le spalle. Le spalle, le spalle. Vabbè, tu in estate ci sono arrivata quasi subito, perché c'è questa, c'è il love interest. Esatto. Eh, che è questa signora, questa ragazza, che fa la ricercatrice, e lei non è, non è di perfection, non è del Nevada, è lì per fare appunto delle ricerche, perché ci sono delle cose strane che stanno succedendo, che sono i vermoni, spoiler. E quindi lei non è abituata a stare nel deserto, e cosa fa? Si mette la protezione solare, ma solo nel naso è male. Cioè, hai il naso bianco. Esatto. Senza averla spalmata. Perché? Cioè, non ha senso sta cosa. È bellissimo, sei tu. Ma io non... dai, questo è un affronto. No, no, questo è un complimento. Sei come la tipa di Tremors, è un complimento. Grazie, che bello. Non mi sommettere alla protezione solare. Poi, vabbè, la cosa di Dune... Ah no, sì, sì, è quella. Sì, sì, l'Isola Nalgaib. Ma immagino fosse riferimento ai vermoni. Sì, il fatto che non possono fare rumore, tutto... Sì, sì, sì. E poi c'è anche il momento che mi ha fatto morire, mi ha ricordato moltissimo Dune, della bambina che salta su quel... Cos'è? Non so neanche cosa sia. Il jumper, come lo descrivi? Era quel bastone con la molla in fondo e due pedali e che tu ti ci mettevi sopra e saltavi. Esatto. Io non l'ho mai avuto, però l'ho usato. Io ho mai? No. Non l'ho mai visto. Difficilissimo. Infatti quella bambina era pro. Era molto pro. Però sì... E quel coso ricorda quei robbie che usano in Dune, come che si chiamano i... Vabbè, adesso... Quei robbie, vabbè, avete capito. Quelli che fanno tump tump. Esatto, quindi che fichi nella sabbia, fanno boom, boom e arriva il vermone, ok? Quel robo lì è uguale. C'è sta bambina che salta su sto jumper e ovviamente risveglia il verme delle sabbie. No, sì, perché è la scena dove hanno appena capito che sono i rumori ad attirare i vermoni e quindi... E poi stacco, toin, 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 toin. Però la salvano. Ecco, una cosa che non mi piace di questo film è che si salvano tutti i bambini. Oh, no, Jacopo... No, per il tono ci voleva tipo... Ci voleva qualcosa di più. Il teenager potevano seccarlo, dai, era... Hai ragione, cioè comunque fanno tipo dieci morti in sette secondi. Il che è incredibile perché in questa cittadina abitano sette persone e quindi sono morti tutti, fondamentalmente. Poi un'altra cosa che mi sono segnata e che mi ha fatto molto ridere, vorrei... Forse è mia scena preferita, che però è un grosso spoiler perché è un po' il finale. Quando seccano il vermone supremo, non so come altro chiamarlo... Il capo. Esatto, il capo dei vermoni. Il mitico Kevin Bacon ha questa idea geniale di farlo... Allora, non so come spiegarlo. C'è un burrone, ok? Il vermone va sotto la sabbia, ok? E quindi lui lo attira fino al burrone, in modo che quando poi cerca di prenderlo, lui salta e il vermone si spara fuori dal burrone. Non so se questa cosa chiacchia. Sì, sì, nell'iperuraneo va. Esatto, esatto. Io tra l'altro ho visto questo film in italiano perché ho pensato... Jacopo lo ha visto in tv, quindi the real experience sarà vederlo come ha visto lui. E quindi quando il vermone sbunca fuori, come si dice? Sì, vola. C'è Kevin Bacon che urla, sai volare testa di cazzo? E c'è questo vermone che vola e si spiaccica con questa melma arancione che gli esce fuori. Una roba orribile. A me è piaciuto un sacco perché questi vermoni sono giganteschi e fortissimi che nuotano nella terra. a 300 km orari poi fa un volo di, ok, mille metri però si spappola come se fosse tipo un sacco dell'umido. Esatto. Ma poi mi sono chiesto, scusami, ma non poteva, cioè se si tuffava di testa, poteva rientrare dentro? Ah, non lo so, non ho studiato, che ne so. Non sappiamo così tanto sui vermoni in fondo. Esatto. Vedremo in 2 e 3 cosa ci spiegano di nuovo. Chissà. E poi un'altra cosa che mi ha fatto ridere, sempre Kevin Bacon, lui, diciamo, il vero protagonista del film. Cioè è il protagonista, però in teoria sono due, ma lui spicca. Fa molto ridere perché proprio primi minuti del film c'è lui che fa tutto erfiego così, addirittura da lontano vede la signora di prima con la crema solare e fa C'è una tipa, andiamo, wow, 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 le cosce, le robe, papà, le tette, così, tutto maccio, stico, bla bla. Poi questa apre bocca e lui tipo si frizza, non riesce più a proferire parola, non sa muoversi, non sa fare niente. Ripeto, 7 abitanti, l'unica donna è sposata con un figlio e basta, quindi... È terrificante e mi ha fatto ridere anche appunto nel finale, perché ovviamente Love Interest di Kevin Bacon è la tipella, dove c'è lui che tipo fa queste mosse tutte impacciate, super strane e molto enfatizzate anche, cioè tipo un po' teatrali. E mi ha fatto molto ridere, tipo lui che prende delle cose, si nasconde, fa tipo, Sì, dimmi, ok, ma scusami, ma tu non eri il cowboy lì che diceva, faccio disfo se, per favore, sei falso, sei falso, Kevin. Falso, quindi non ti sorprenderà sapere che Kevin Bacon ha fatto questo film perché era indebitato fino al collo e gli stava nascendo un altro figlio. Ecco qua, vabbè, posso dire, lo capisco, cioè dopo tutto quello che abbiamo scoperto su Sean Connery, ormai, cioè io proprio mi aspetto di tutto. Però a me piace il fatto che, comunque lui è andato lì, ha fatto la sua parte. Ma ci ha messo anche il cuore, eh? Sì, sì, ma infatti è convinto, è convincente, però a me questo film piace perché è proprio quei, come si chiamano, monster flick, così un po' tirati lì. Però funziona, cioè ha detto, perché non facciamo un verme nelle sabbie innevata? Ok, un'ora e mezza di verme nelle sabbie innevata, non perde tempo, arrivano subito, comincia un po' di morte. battute, battute cacciarone un po' antiquate, però sai, volare testa di cazzo effettivamente. No, fa troppo ridere, cioè questo ma vado proprio ridere. Ma forse la tradizione, non lo so in inglese com'è, magari ha un altro gusto, un altro flavor. Non mi ricordo, però funziona. Però in italiano, poesia. Esatto. Non so come l'han tradotta in italiano, mi ricordo, il fatto che tutti dicono parolacce tranne la ricercatrice e poi lo dice anche lei alla fine. Oddio, sai che non ci ho fatto caso a questo? Perché in inglese a un certo punto c'è l'amico di Kevin Bacon che dice sempre le parolacce e finisce con pardon my French. Ah, ok, ok. E allora lei alla fine, quando ha l'idea di lanciare la bomba in bocca al vermone, we blow up that son of a bitch, pardon my French, e tutti fanno la faccia sorpresa. Oh, questa signora. Questa tipa di città che dice le parolacce come noi. Un'altra cosa che spero che tu abbia colto, o se no te la faccio notare io, è che, te lo dicevo anche prima, secondo me, a parte la tipa, tutti i personaggi sono Luke Daines in questo film. Cioè hanno tutte le stesse personalità. Ah, beh, sì, hanno quel mood un po' tipo odio tutti. Lasciami in pace, odio tutti. Lasciami in pace, esatto. Però ogni volta che c'è bisogno di aiuto per qualcosa, loro si fermano subito. Cioè vedono un tizio arrampicato su una torre e dicono, ehi, che fa lui lì, aiutiamolo. Vedono la tipa con la... i sismografi, ehi, tu che fa? Non sentono più i loro vicini, loro vanno a controllare. Sono carini. Sono carini, sì, è vero, è vero, è vero. L'ho notata questa cosa. Cioè che sono molto... c'è molta comunità. Esatto. Vabbè, sono sette, ricordiamo. Il problema è però che sono tutti e sette così. È vero, è vero. Tutti uguali, cioè... No, forse, vabbè, il cinno... È il bambino, per i nostri ascoltatori non... Non emiliano romanale. Esatto. Il cinno che rompe i coglioni, fa lo stupido. Però sì. È stato un piccolo ancelo. Un'altra cosa è che a me, non so perché, piace un sacco la colonna sonora. Perché a volte è super non appropriata al contesto, però mi fa ridere. Una cosa, aspetta, forse me l'ho segnata... No, ti ho mandato l'audio su questo. Cioè che c'è il momento in cui loro praticamente sono un po' bloccati perché ci sono questi vermoni delle sabbie e quindi devono raggiungere la macchina. Solo che non si può fare perché se loro camminano, fanno rumore e quindi arrivano i vermoni e ciao. E quindi hanno quest'idea di usare dei bastoni giganti e usarli tipo trampoli, no? Sì, salto con l'asta tipo. Esatto, tipo salto con l'asta e quindi passare sulle rocce perché ovviamente le rocce sono sicure. Ecco. In questo momento c'è questa musichetta allegra come se loro stessero andando, non lo so, a farle scampagnate tutti insieme. È una cosa molto eroica. Non lo so, sembra quasi quella musica da montaggio in cui tipo, non lo so, c'è il protagonista che sta imparando a fare una nuova cosa, facciamo il montaggino di lui che fa le varie robe. Ah sì. E parte la musichetta, quello. Però il momento, cioè era tipo, potrebbero morire. Che poi trovano questi tre bastoni lì, perfetti, tutti gli altri uguali. Sì, sì, poi tre, perché loro sono in tre. Sì, tre. Giusto. È pieno di cose così questo film e mi fa morire. Mi fa anche, mi piace molto perché è come, come fanno il verme senza far vedere il verme, cioè ovviamente non avevano un sacco di soldi. Sì, e boh, per me lo fanno bene, tipo banalmente quando il verme passa e tutti i pali della strada si cadono perché lui passa sotto la sabbia, quindi li livella. Vabbè, la classica onda di sabbia al posto del, eh, il POV, come dicevi prima, col tunnel pieno di sassi. Boh, a me fa ridere. Sì. Mi piace molto che quando ci sono i vermi c'è sempre questo tipo rumore di Maracas, che fa tipo, era bellissimo, tornava, sembrava la sabbia di Dune quando... È vero, è vero, quello ha molto senso. Quindi Denis Villeneuve è sicuramente un fan di Tremors. Sicuro. No, mi ha fatto ridere anche un'altra cosa, cioè non ridere, era più una roba tipo, ah ok, ho capito perché Jacopo diceva, mi sembrava un horror. Proprio all'inizio, quando per la prima volta diciamo capiamo che c'è qualcosa di strano, c'è la tipella che sta facendo i suoi vari esperimenti e poi torna in macchina. Lì noi vediamo che c'è qualcosa che si muove sotto la sabbia, per la prima volta c'è questa regia assurda, cioè tipo, mi pare sia una macchina a mano che quindi va tutta così un po' un po' sbilenca, shaky, esatto. Che ti dà proprio quel senso, anche un po' di ansia, almeno a me lo mette, che la segue molto veloce con questa musica, tipo... Sì. E tipo lei per un millimetro riesce a salvarsi perché poi sale in macchina e va, e quindi non viene presa da sto vermone e quindi ero tipo, cavolo, cioè anch'io se avessi visto sta cosa da bambina mi sarei cagata sotto. Poi in pieno giorno comunque, a me faceva super paura questo film. Per quello? Perché era il giorno? Sì. No, 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 per tutte queste cose che da bimbo non è che si puessi distinguere l'avventura dall'oro, cioè un mostro per me è un horror. Comunque è buffo che tu abbia citato questa tecnica di ripresa perché è una citazione a un altro film che ti farò vedere un giorno. Ah, oddio, quindi faremo, ci sarà un collegamento incredibile. Esatto, sì sì, brava, si vede che hai fatto il dance. Hai visto? Però sì, appunto, il fatto è che da piccolo questi film io li percepivo come horror, ma pesanti, e quindi vederli con le mie sorelle mi sentivo molto adulto. Wow. Perché io comunque sono molto più piccolo che le mie sorelle, per chi non lo sapesse, quindi vedere un film con loro che non si poteva vedere, era tutto... Vietato. Wow, sono... sto facendo una cosa proibita. E poi in realtà guardavo Tremors, però voglio dire... Vabbè, però posso dire, alcune scene sono anche un po' splatter volendo, cioè il signore che viene ammazzato e si vede il suo caschetto con tutto lo schifo del cervello, i pezzi di capelli, cioè quello posso dire... No, lì non sono d'accordo, perché appunto sembra gelatina, lo vedevo che era finto, mentre il vermone mi sembrava vero, non so perché, avevo... Il verromone. Il fatto che si vedeva poco e uscivano queste tre linguette che... Dai, che fanno ridere, hanno quella boccuccia. Sono tremendi, ma brutti proprio, cioè... Ma poi è anche un po', cioè a me sinceramente mi ha fatto un po' schifo, cioè proprio... Non schifo nel senso... Ah, questa cosa mi fa... Proprio un po' ribrezzo. L'effetto che fanno gli insetti, che li vedi e fai... Ah, ci sta, sono vermoni, insomma. Io? Ha senso. Ha senso. Che altro? Tutto quello che vuoi dirmi. Ma no, perché allora queste erano le cose che mi ero segnata, altre robe... Ah, la fotografia che prima l'hai citata. Bellissima la fotografia. Cioè, ovvio che è un po' un gola portavuota in Nevada col sole in alto e... Riprendi, bello. Però, oh, riprendi. No, no, ci sta. Il fatto che hai fatto con Trelire, ho detto... Hai ragione, ci sta. Ci sono solo due interni nel film, se noti, quindi hanno costruito due sette e basta, il resto erano tutte robe abbandonate, messe lì così. E... Forse ti interesserà sapere che però questo film è andato male al cinema, ovviamente. Ah, mannaggia. Mannaggia. Però, in qualche modo ci sono sei sequel, tutti diretti per la tv, però ci sono. Vedi, allora, ho cercato... perché ho cercato Tremors su Google, poi. Perché volevo vedere... cos'è che stavo cercando? Non mi ricordo. Forse è un nome di un personaggio, vabbè. E quindi l'ho cercato su Google e mi sono venuti fuori tipo due, tre, quattro. E ho detto, oddio, ci sono i sequel. E io voglio sapere, tu li hai visti? Io ne ho visti almeno tre dei sequel. Wow. E come sono? Allora, ovviamente non c'è più Kevin Bacon, ma se dovessi scegliere tu, quale sarebbe il personaggio che metteresti in tutti i sequel? Tutti. In tutti? Sì. Oddio. C'è un solo personaggio che ritorna sempre. Vabbè, l'amicone di Kevin? No. Oddio, no. Il tizio antipatico del paese? Quello col cappellino? No. Il tizio... No, aspetta. Forse è lui. Quello che l'ha fissato con le armi. Ah, sì, sì, sì. Ah, lui, ok. C'è il cappellino bianco. Esatto, è lui. È il protagonista di tutti i film di Tremors, diventa lui. Lui è quello, posso dire, è quello più incazzoso. Sì. C'ha voglia, fa niente. Ma è il classico complottista. Ah, sì, io mi sono fatto un bunker sottoterra. Quando la guerra nucleare ci distruggerà tutti. E sono i... Sì, sì, hai ragione. Ne va. Infatti si vogliono un gran bene. Però sì, appunto, il protagonista dei sequel è lui. C'è anche una serie tv, tra l'altro. Sempre in Tremors? Di una stagione. Che cavo wow. Un franchise magico per queste cose. Uno peggio dell'altro, i sequel. Però il punto è che, come un sacco di film, questo chiaramente è stato pensato. Inizia, finisce, bello, mostri così. E invece i film più vanno avanti, più si inventano una lore sui vermoni. Mi danno un nome scientifico, l'origine. C'è uno dei sequel in realtà è un prequel di quando l'antenato del tipo col cappellino, che è sempre interpretato da lui, però. In una miniera ha trovato il primo vermone. Mi sento male. Lui diventa un esperto di vermoni, perché è l'unico al mondo che riesce a ucciderli tutti. E però, quando la gente scopre che in questa cittadina ci sono i vermoni, perché ne arrivano altri, vengono tutti i turisti a vedere, ci sono i tour per vedere i vermoni. Ma, infatti, qua sorge la domanda. Ci sono solo lì? Eh no, poi andando avanti, non l'ho visto, ma ho sentito che, tipo, fanno... A un certo punto scoprono una nuova specie in Africa e chiamano sempre il tipo così, per cacciarlo. Eh, tutta così la roba. Folle. Ma poi i vermoni, alcuni non restano neanche vermoni. C'hanno tutto un ciclo vitale che spiega... Si trasformano. Sì, tipo, da un vermone, quando mangia tanto, escono tre cosi, che hanno il becco del vermone e, tipo, zampe di gallina e vanno in giro a mangiare la gente. Zampe di gallina. Sì, sì, sono dei tacchinoni, se vai a cercarli dopo. No, mi sento male. E poi, di questi tacchinoni, si evolvono e imparano a volare. I Pokémon. Scoreggiando, non sto scherzando. Scoreggiando? Sì, sì. Lanciano metano dal culo, questo era il terzo, me lo ricordo benissimo. Sono tipo dei jet. Infatti, per sconfiggiali, usano il napalm, perché col metano incendiano tutto. Per chi non stessi vedendo, Giulia non riesce a parlare in questo momento, non ha parole, però... Ma cos'è? Non te l'aspettavi, eh, che andassi... Ma io neanche i miei sogni più riconditi. Mi sarei mai inventata una roba del genere. Difico che questi tacchini volanti con le scoregge vengono chiamati in inglese assblaster. Ma guarda! Come assblasto, Jacopo? Te lo giuro. No, non è vero. O puoi scegliere di non credermi, ma è così. No, no, io ti credo, però... Questa è la strana lunga storia di Tremors. No, io... Che dire? Allora, scusa, sto leggendo adesso che l'ultimo sequel è il del 2020, quindi neanche troppo tempo fa, capito? Oh Gesù. Questi stanno andando avanti. Come sta... Vabbè, ma scusami, ma c'è sempre lui? Non lo so in quest'ultimo, vado a vedere subito, guarda. Vai, voglio saperlo. Sì, c'è sempre lui. Ma cosa? Cioè, dal 1990 sono passati più di trent'anni, quest'uomo. Però posso dire, beato lui, una carriera spianata. Non ha... Sono quegli attori che hanno magari un solo ruolo, però se a lui piace, lo pagano. Ma infatti... Cioè, voglio dire. Alla fine deve solo fare il figo sparare. Che lusso, incredibile. Wow. Fantastico. Bellissimo, bellissimo. Beh, questa lore mi sta piacendo molto. No, aspetta. Sto leggendo il titolo. No, non ci posso credere. Oddio. Il titolo di quest'ultimo film si chiama Tremors Shriker Island. Perché i vermetti urlano. Oddio, e quindi? E niente, come Shatter Island, però è Shriker Island. No. Questo franchise è incredibile. No. Ti prego, perché... È bellissimo. No. Niente. Non ci sono parole per descrivere quello che stai provando. Io F4. Se c'è una cosa che gli americani sanno fare è proprio stiracchiare tutto fino all'eccesso e poi lasciarlo in brandelli. Ma io un po' li amo per questo, almeno a livello di film. Ah beh, sì. Cioè, hanno rotto il cazzo con i sequel, però i sequel per la TV io sono pro. Fate tutto quello che volete, fatene 1500. Low budget, con effetti speciali pezzotti. E niente, questa era Tremors. E niente. Beh, divertente Tremors. Cioè, nel senso... Non l'avevi visto. Non l'avevo visto. Ho capito il perché non l'avevo visto. Probabilmente se tu non mi avessi costretto non l'avrei mai guardato. Ci sta. Anche sapendo di cosa parlavo, avrei schippato. Però è stata un'esperienza, quindi ci sta. Non so come potrò replicare, in realtà so già cosa farti vedere la prossima volta. Però non sarà una vendetta. Una vendetta. Ok, neanche me è stata una vendetta in realtà. Poiché a te non sia piaciuto, sono fatti tuoi in realtà. Io questo l'avevo messo. No. Un gioiellino nel mio... Una chicca. Nel mio scrigno, esatto. Quindi niente, ci vediamo la prossima volta e... Sì, sì. Sì, grazie Jacopo per avermi fatto vedere questo film. Grazie a te per averlo visto. E nulla. Ci vedremo prossimamente. Cioè, ci sentiremo prossimamente. Prossimamente. Presto. Ciao, ciao. Ciao.